che ho dedicato a mio padre, che ho perso quando avevo 12 anni. Il brano si titolava L'incontro mancato, ed è l'incontro mancato fra tutte le situazioni della vita che da 12 anni in poi si sono succedute, quindi, pur sentendolo molto vicino, però materialmente non mi ha mai visto su un palco. Non ha vissuto, ovviamente, come potete ben capire, le tappe importanti della mia vita, il mio matrimonio, la nascita della bimba, della prima bimba, adesso la seconda arriva. E quindi, niente, voglio dedicarlo a tutti coloro che almeno una volta nella loro vita sono stati protagonisti di un incontro mancato. Alla prossima 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 Alla prossima